sguardo lacrimoso sguardo malinconico della mezzanotte siamo appannati ad appannaggio di uno stato che ci sta lentamente asfissiando boicottando vitalisticamente parlando scurando e molti oscurerebbero questo capolavoro assoluto di david lynch presentato in occasione del leone d'ora la carriera io fui presente ma quella manifestazione quell'edizione della kermess veneziana mostra internazionale d'arte cinematografica di venezia ricordi reminiscenze e ho la coscienza che rimerge mentre fuori impera e non imparano confondere con shatter island o con isl andy a andy andy con l'irlanda impera e impazza la nebbia in questo stato nebbioso crepuscolare voi uomini criminosi lacrimoniosi ecco poi fu contattato alle 23 20 dal mio capo redattore che poco prima che che venissero messi in atto ma qualcuno eluderà le regole noi siamo già invece disillusi queste direttive che ci scontentano più che altro ancora obnubilano interrompono il nostro cammino che non deve essere interrotto e perpetuamente un continuo spazio tempo aperto alla luce solare al bel tempo rinnovato sin noi che rammemora il passato forse apparentemente dimenticato di ciò mio capo redattore stefano avrei già inserito la recensione ma andrebbe riveduta e corretta in alcuni molti suoi segmenti e parti è ridondante troppo aggettivizzata tra virgolette andrebbe riguardata e un po accorciata qui io invece reciterò la mia recensione integrale non spezzata e su da roma vicino è stata pubblicata una versione ridotta è uscito il blu ray approvato dal regista nella versione definitiva sono sono assai consapevole sempre lo sono stato di essere una persona molto particolare che privilegia la solitudine perché non vuole assolutamente mischiarsi mescolarsi innervosirsi e poi innervarsi o innevarsi nel freddo altrui proiettatoti addosso perché molti spettatori semmai guardano questo film lo videro con enorme superficialità e lo derisero a priori o a prioristicamente non volero salirvi a bordo e loro lo respinsero rimanendo fermi alla loro visione che non vuole mai entrare in contatto con chi come lincia da proporci uno sguardo una poetica diverso diverso è un cinema che soffre anzi può vantarsi questo suo apparire disturbante di un'alterità della messa in scena emotivamente parirà scema a chi è scemo e invece l'inch profondamente intelligente dilirante lui celluloide farneticante lui vuole esprimere la sua parte senza filtri senza prescrizioni senza indottrinamenti senza collocarsi in un luogo ben definito preciso quindi ha scritto ha scritto a ai facili giudizi di chi vuole subito catalogare tutto categorizzare e inserirlo all'interno di un contesto contestualizzare invece vive il cinema postmoderno e viva il cinema poliedrico il cinema folle forse futile che scomparirà le vostre menti si auto distruggerà in pochi secondi quanto voi siete dei menti invece si conserverà si perpetuerà nell'eternità per chi possiede la versione deluxe no per chi è letto se ne alletterà e se ne allatterà se anzi sarà allattato da questo cinema che è tutto da succhiare tutto da da vivere tutto da da mordere da captare tramite il nostro compenetrarlo il nostro entrarvi dentro il nostro viscerale assorbirlo elaborarlo e e viverlo viverlo senza pregiudizi ora sto dilungando si è un po' prolissa dovresti ecco allora poi siamoci e tergiamo le nostre lacrime dinanzi a spettatori faceti che non possedendo quella cume quella brillantezza quello splendore visivo profumato di romanticismo linciano non possono trasfondersi nell'effluvio che l'incio stesso ci effonde e non riesco a non affonder a fondo vederlo a effondersene ecco questa è la recensione non devo direto scatto ma che è stata tagliata sono molto tagliente a volte a volte ci si smarrisce lungo le strade le nostre impervie menti dei nostri meandri dei nostri cunicoli ottundenti il nostro crederci sapienti quindi illuminanti è un discorso un po' confuso ma non voglio non voglio dare spiegazioni fornire delucidazioni a chi non potrà mai vivere la segretezza di un'anima e invece vorrà segregarla ecco nelle quarantene imposte dalla sua limitatezza e finalmente è uscito il blu ray di uno dei massimi film della storia del cinema si lo è niente po' di meno che il hanempa l'impero della mente nella più e più volte rimandata ora assolutamente disponibile confezione a tiratura limitata con il master hd hd approvato come detto lo stesso david lynch il creatore ideatore ovviamente regista e produttore assieme alla sua inseparabile compagna artistica mary suene di tale leggendaria pellicola oramai epocale assurta totem avanguardistico della più rinomata vetta monumentale della fabbrica dei sogni fin dal principio ovvero sin dalla sua primissima presentazione molti considerarono erroneamente il land empire un ideale prosecuzione di mulloland drive a hollywood il cinema nel cinema un doppio sogno quasi al stanno i kubrick no simbiosi e fusione o effusione nucleare delle nostre psicosi imprugionate dall'inzio primissima presentazione prima mondiale indimenticabile ma poi la gente si dimentica non ricorda più 63esima mostra internazionale d'arte cinematografica di venezia è venuta nel fatidico giorno del 6 settembre 2006 di nel quale lynch fu omaggiato con il sacro santo leone d'oro alla carriera entrata di diritto fra le ieri notte lei amoreggiato con la sua signora entrato rittamente oppure in maniera sghemba come alcune inquadrature così storte ben accordate però alla simmetrica diciamo orchestrazione architettonica di un lynch spasmodico oppure vedete la domenica sempre mi affligge mi costerna mi atterrisce mi terrorizza terrorizza la giornata di riposo in realtà credo di non aver mai veramente lavorato a livello di salariato ma sempre lavorato a livello mentale mi sono sempre ingegnato per rinnovarmi per non innervosirmi per non ecco ripeto adombrarmi nell'apatia delle certezze più 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 banali l'abluzione della vostra visione sintomatica di mancanza di benevolenza vi do una benedizione nel quale lynch fu omaggiato col sacro santo leone vedete acqua santa sacro santo leone d'ora la carriera l'entrata di diritto fra le invincibili e scalfibili inamovibili pietra miliardi della settimana intesa nella sua forma più superlativamente maiuscola vertiginosamente mastodontica non siete obbligati a vedere questo video quindi se già v'ho annoiato mi sono apparso pedante datemi una pedata ma più che altro guardate altro un capolavoro indiscutibile per il quale la parola capolavoro ci parla addirittura riduttiva e esminuente l'immensamente incomiabile grandezza in mano di land empire perfino data l'uni immensamente l'impero della mente data l'uni dei totali profani riguardosi incompetenti odiosi non ancora pienamente apprezzato e giustamente incensato nella sua grandiosità inarrivabile e incommensurabilmente portentosa che film poderoso che uomo vigoroso io affranto infrantomi per colpa di insulti scagliatevi contro da infanti basta un angelo un angelo infanto così che dopo aver reinventato il cinema moderno con l'espressionista soprattutto impressionante David Lynch sbarcò ed approdò a Venezia e consacrò il suo genio eterno e paradisiaco cementandolo con un opus magna dalla menustà impari un'opera così magneloquente effervescente di immagini spasmodicamente deliranti nella loro visionaria altisonante brillantezza colossale da indurci attonitamente ad incontenibili viscerali grida di piacere grondanti ed urlanti maestosi codimenti cinefili così emozionalmente toccanti sì l'emozione può essere toccante può riscaldare toccare i cuori e rintocca il clamore no 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 se ti toccano violentemente poi c'è il clangore no rintocca lo squittio il cigolio delle nostre vene squagliate per colpa di peccati capitali non veniali ma veniamo al dunque in un infinito toccato e potente da cercarci per sempre in un infinito bagliore statico imperituramente immortale superlucente io sono questo non voglio cambiare hanno provato in ogni modo a volermi indirizzare e adattare alla loro visione ripeto superficiale io imperterrito continuo per la mia strada una strada dissestata una strada odiata una strada spesso equivocata e immarginata ma è giusto così perché io non voglio non voglio vivere ripeto lo ribadisco lo evidenzio lo rimarco voglio addentrarmi ecco in una socialità in una società scusate vedete un po' rintronato che è riprovevole disgustosa rivoltante in maniera forse repulsiva o reclusiva il cinema immersivo e basta England Empire signore e signori l'impero della mente di Lynch stesso al suo zenith vedete io posso essere bambianesco ecco ironico grottesco e poi serio e meditativo riflessivo io stesso incarnazione dei dubbi più enigmatici un uomo che pensa prima di agire prima di giudicare prima di attaccare prima di etichettare ecco e anche recensire più follemente creativo più smisuratamente eccentrico Mr. Bizzarria per eccellenza pro excellence asceso in finamento stellato degli dei cinematografici più spaziali esplososi in un filmato sogno incubo armonico dei più altissimamente deliziosi detonato squisito gigantesco formato stravaganza culturalmente un po' più esotericamente eccelsa trama cioè in verità è un McGuffin no 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 eh sì sapete cosa sì ma è un pretesto straordinariamente bugiardo dietro al quale informatevi sì sì leggete il bugiardino lì ci sono tutte le controindicazioni anche le disposizioni di effetti poi collaterali diciamo ordinate da conte che sta disordinando questa realtà che non l'arte cosa fa l'arte cerca di aggiustare la bruttezza di un mondo totalmente allo sfascio in questo sfacelo cerca di ordinare il caos ma l'arte stessa poi diventa caotica perché riproduzione è rappresentazione di una realtà sfuggente ecco si deteriora pur restaurandosi nella sua mente che tenta tenta di diciamo a cerchiare no circoscrivere la realtà entro un parametro che possa abbagliare ma poi ancora rabbuiare e non essere capiti non essere respinti e quindi ancora ricreare per rigenerarci attraverso un rimodellare la vita nel rivederla risvegliarsi rinascere di nuovo tentare di plasmare e non plagiare gli altri plasmare il mondo non ripeto in maniera solipsista il mondo secondo un punto di vista no ok in verità un predesto straordinariamente bugiato dietro al quale con la scusante di un vago comunque già misterico misterico tutte queste donne isteriche intreccio che nella prima esatta ora pare assumere una connotazione diegetica approssimativamente diciamo presa poco normale nelle restanti due ore di tale opera sconfinatamente per l'acea della durata per l'appunto di 180 minuti circa tre hours volutamente si sfilaccia si spezzetta dai in escandescenza e poi repentinamente a modi visivi allucinatori serpentine superbe si ricompone mestamente in modo opacatamente liquidamente languido organicamente disorganicamente ecco vedete organizzi il pensiero poi poi viene fratturato e si rompe poi ancora e rompe in maniera vulcanica coagulandosi consapevolmente inconsapevolmente perché l'inconscio le tre istanze della personalità no a forma ecco si si per l'appunto di inconscio non freudiano il sogno sogno junghiano le unghiate è graffiante questo cinema fuso è fuso in schizzoidi quelli che dicono sei schizofrenico perché perché ti trasfondi in altro non ti accontenti della mia realtà puttanesca pettegola porcellesca del vivere comune non si può uscire dal comune ma basta noi allora usciamo da queste regole no prescrittive e anche cineastiche se non mi capite fa lo stesso questo è un delirio un delirio allafalotico perché io voglio soffrire di deliri voglio sempre amare Robert De Niro e me ne sbatto il cazzo della vostra visione da piccolo borghesi nani peggiori dei nani della copertina Strange Days dei Doors Jim Morrison dei nani di Twin Peaks è chiaro? voglio essere me stesso anche solissimo che è superlativo di sole quindi illuminato e quindi non posso confondermi col col mondo col mondo che è giusto che mi respinga è giusto che in maniera proprio aggressiva cattiva perfida crudele mi osteggi ostracizzi il mio il mio essere così fluido il mio essere armonico ma disamorato poi del mondo perché il mondo non fa parte di me io vengo da un altrove questo cinema altro ecco schizzoi di frame dispostici a modi mosaico ravennate intrecciato a sua volta in filmiche sanguigne furenti fiammeggianti al contempo tetra immaginifiche dinamiche agganciate all'acronimo REM Michael Steep type no REM ovvero Rapid Ice Movement non ritraente soltanto il personalissimo onirismo traspostici da David Lynch il magnificente suo fantastico vaneggiamento d'applauso a scena aperta bensì una linciana cioè non ritraente ne bensì cosa ritrae la Gioconda quest'uomo geniale il nuovo Leonardo messa in scena stessa pazzamente potremmo dire flagrantemente deflagrante vellutatamente infigurativa furia orgasmica diluitaci meravigliosamente intocchi di arte no e Laura Der fa e poi parte la musica il ritmo incalzante pura delle più ingegnosamente adamantine conturbanti comunque sia non dilunghiamoci forse si perde in qualche lungaggio in qualche ripetizione l'inch il fin di l'inch ma ecco la trama ma non va linciato va conservato così senza tagli ecco senza censure senza revisione anzi va va rivisto non revisionato il mio giudizio è inappellabile rimane capolavoro inarrivabile sintetizzato per quanto il termine riassumibile in tal caso coincida con impossibile allora Nikki Grace una Laura Den ma è così brava altra del suo immeritato Oscar tardivo per il sopravvalutato così come la sua performance sovrastimata storia di matrimonio attrice che vive in una lussuosissima villa alle pendici di Hollywood viene scelta per interpretare il remake particolare di un film maledetto mai completato intitolato il buio cielo del domani perché qui la sua insaputa però in quanto inizialmente ignara i ignoranti perlomeno sono parzialmente informata che il film per il quale è stata disegnata altri non è che un rifacimento sui generi come detto di una pellicola su cui allegge il fantasma ad una maledizione somigliante se vogliamo giocare di suggestivi parallelismi in meta cinematografici a quella del tremendo il bramato film maledettamente per l'appunto orrendo tanto ricercato da Udo del superbo silhouette di John Carpenter tv movie diretta Masters of Horror diretta dal gentile Balsano Kisley non Ben ma un Jeremy Aeros in ottima forma che accompagnato dal suo braccio destro scottinato e disgraziato Freddie Auer non Freddie Krugel compiato Harry Dissent un ex attore fetticcio di Lynch per Antonomasia Nicky si trova a recitare a fianco della giovane affascinante promessa attoriale maschile di nome Devon forse Billy e Justin Turrell è un terrone questo Pitt vuole riconciliarsi con lei ma lasciasse stare Jennifer Aniston Jennifer Lopez Jessica Rabbit un vero suo spasimante nella realtà solo un fittizio anzi un insulso fantoccio fantozzi cosa direbbe ho letto anche una recensione sull'ispietà queste banalità gli impiegati non possono capire torniamo a farinotti no il cinema di Sergio Leone c'era una volta il West adatto per impiegati in cerca di poesia perché dovete catalogare ho letto una recensione fantozzi dinanzi a Island Empire direbbe una cagata pazzesca un fantoccio innamorato di lei solamente in una finzione che tale potrebbe anche non essere essendo probabilmente invece una speculare in realtà parallela dalle captate vista attraverso l'ottica forse a sua volta deformante ad un sogno ripetiamo paurosamente bello in cui si riflette in cui le sue emozioni si fratturano e rifrangono ininterrottamente gioco di frangenze questa bellissima fotografia chiaroscurale poi 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 ammaliante no ardente nella notte nella notte più insistente più più ecco forse soltanto frutto della sua alterata confusissimamente squagliatasi nei suoi deliri a loro volta cagionatele da un marito perfido subdolamente perfido in maniera subdola lei stessa nicchia è davvero nicchia oppure Alice il paese di meraviglia Alice in Wonderland i conigli antropomorfi alla tv chi sono quelli che rimangono immobili mutabili e guardano contemplano e giudicano ma non non entrano ecco in azione l'essere non essere loro loro guardano e giudicano e ridono e ridono perché è tutto una tragica commedia la vita l'avevate capito questo nicchia diventa una donna digitalizzata nel morphing cambia cambia aspetto ma campa e corre è un sogno quello che sta vivendo e ciò che stiamo vedendo oppure è un magico incubo terribile ad occhi aperti e se avesse avuto ragione invece da poco di buono rimambita strega sua vicina di casa interpretata la grande Grace Zabrisky arriviamo al punto Zabrisky Point denudiamoci in Pix questa questa donna horrifica la dimenticanza è quindi rifiorita nella fluorescente fiorita reminiscenza calidoscopica delle sue più ancestriche memorie rimosse ed ora come per magia coloratamente riemersa in tutto il loro abbagliante terrore stasiante abbiamo citato Brad Pitt nel cast Camay c'è anche Giulio Ormond Giulio Ormond quel vento di passione gli ormoni ecco Giulio Ormond Diane Laird madre nella vita reale di De Laura il cuore selvaggio il cuore selvaggio Dozet Mariel Stein Borg William H. Maynes il Laura Henry la fine Christian Kahn Nastassia Kinski sono pazzo come Klaus uno sferato alla Herzog le partecipazioni straordinarie delle voci di Naomi Watts dello stesso Lynch non ha accreditato qui anche Montatore ribadiamo online per un capolavoro immenso inutile aggiungere altri inutile spiegarlo se non vi sta bene tiratevi delle seghe su Martina Stella e mangiate gli spaghetti malcotti vostra zia più brutto della signorina Silvani questo è siamo arrivati a 27 minuti e 56 non vi piace allora andate a fare in culo io sono questo e non cambio e voglio vivere così così basta basta con la mediocrità basta andate a farvelo dare in quel posto io l'andai in paese non vi piace andate a cagare